20 e 20 per fortuna guardala là stupendo un'unghietta che cresce perché è bugiarda quando fa una D cresce quando genera una C decresce ma non so più nessuno giustamente perché eh sì sì andate a casa andate a casa perché guardate che dovete andare a cena dovete portare i bambini a fare la doccia devono mangiare i bambini perché se non mangiano a casa devono mantenere gli stessi ritmi di quando è inverno devo fare la doccia devo pulire i fagiolini bello stanno andando a casa? sì che dovete andare a cena? dopo sì dopo perché sto un pochino prendendo per il furo quelli che vanno via a quest'ora però a te c'è la condizionale c'è la condizionale dai ciao perché devo perché devo perché devo perché devo perché tra 15 giorni uuuuuh uuuuuh tra 15 giorni stai di nuovo a Roma o nella tua città che si chiami Spirinbergo che si chiami Milano Campobasso Cinisello Balsamo devo devo andare a casa ma devo ma devo perché ma questo non c'è a Roma con gli amici in amicizia non ci sono doveri per me in vacanza non ci sono doveri Lucrezietta Nazionale sta lì sotto la tenda di Gheddafi perché se se mangia una cosina qui e gode e prende contatto con lui Erquatto che se ne va spattata in altra parte devo dire che secondo me vede uno spettacolo che per un po' di tempo ce lo dimentichiamo stranezze del genere umano io quest'anno da povero assicuratore non me ne vado perché non sono le 21.30 22 ci danno una cosa da mangiare c'è della buona musica ci sono degli amici c'è uno spettacolo commovente da lacrima che devo vedermelo perché poi vado 11 mesi a spaiolare nella capitale siamo pazzi scatenati pervertiti mentali con i doveri nel cervello boom li ho tolti dal cervello me ne sto qui con la mia famiglia e quando è il momento me ne vado a casa perché questo né lo vendono né si può acquistare non è neanche aftermarket e nella capitale durante l'anno non c'è ma secondo te sto male eccola qui stupenda arriva deve andare a casa a mangiare deve fare una doccia a casa deve lavarsi i capelli devi andare ma dov'è sto posto ma dov'è stupendo secondo te stavo male o preferite andare a casa non sto bene qui ho fame hai fame e ci mangeremo una cosa io penso che devo andare a cercare qualcosa da mangiare che è andato ma ora amore lo spettacolo comincia adesso secondo te sto male viva la vita bella per te andiamo a mangiare una cosa che ti vedo deperita